We need somebody to win Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di TG Gameplay Terzo episodio di Clash of Clans Benissimo, allora, Matteo, che cosa c'hai nei accampamenti, i goblin? E che te ne fai dei goblin? Ebbene ragazzi, vi devo veramente dire che queste strategie che sto utilizzando con i goblin Mi stanno aiutando veramente tanto Perché? Allora, tutti un po', io ho visto alcuni video di altri youtuber e video anche di magari opinioni di altre persone Dicendo che un tempo si trovavano più inattivi E' vero, l'ho constatato anch'io, cioè è vero, nulla da dire Però ho trovato questa via di fuga, per così dire Secondo cui, secondo me, qualcuno vuole che usiamo di più i goblin In che senso? Allora, io in questi giorni ho trovato dei attacchi con i goblin Che veramente mi sono risultati positivi E poi mi hanno aiutato tantissimo Perché? Perché come vedete stanno andando quelle due torri dei arcieri E una costa un milione e cinquecento Allora, come hai fatto? Beh, qui non c'è purtroppo gli attacchi che ho fatto l'altro giorno Ma veramente ragazzi vi devo dire che veramente ho guadagnato tanti tanti soldi Come notate ho usato solo goblin E guardate, io veramente ho moltiplicato per quattro la potenza delle caserme E ho messo tutti i goblin E poi ho moltiplicato, ho messo qualche pozione guarigione Così che non mi è servita più di tanto Comunque mi hanno veramente aiutato a portarmi avanti due edifici costosi Quindi funziona Adesso andremo a vedere un attacco in diretta E comunque ragazzi vi dico che funziona Funziona veramente tanto Voi, ve l'ho detto, fateci caso Quelle due torri dell'arciere stanno andando da due giorni una e un giorno l'altra Come notate un milione e cinquecento costa una Quindi per farle partire tutte e due Veramente mi sono Se avrei dovuto giocare con draghi, mica altro e altre truppe Non avrei potuto prendere magari Che ne so Non avrei potuto utilizzare al meglio questa tattica Perché non ho tanti elisir a disposizione Visto che ho fatto partire i draghi al tre Comunque sia ragazzi Andiamo a vedere subito in diretta un attacco Questo no Questo no Questo no sarebbe impossibile perché non ho lo spaccamuro Questo neanche per lo stesso motivo E vediamo, vediamo un po' No, si si potrebbe fare ma non ha tante risorse Questo lo stesso Vogliamo trovarne uno da centomila in su Almeno oro o monete Eccolo qua Mizz, neanche il tempo di dirlo Ecco qua un villaggio dove ci sono Veramente tanti elisir E veramente tantissime, tantissime, tantissime monete Allora io direi Iniziamo ad attaccare dalla sopra dove ci sono quei depositi No, depositi Quei produttori di elisir Eccoli lì E poi andremo ad attaccare le miniere Ma veramente, veramente un bel attacco Potrebbe uscire un bel attacco Sto anche mirando già Come prendere quei serbatoi Perché come vedete anche i serbatoi sono piuttosto pieni E se riuscirei a prenderli Riuscirei a prendere tante, tante, tante monete Ora, meno male che mi sono portato dietro Una sessantina di barbari E una quarantina di arcieri In modo tale che posso riuscire a penetrare lì dentro Poi con la furia del re barbaro Mi porterò dietro Barbari, mica barbari E mi porterò fino al municipio Vediamo un po' Ok Un'altra strategia che potrebbe esserci Che non farò comunque perché è costosa Bravo barbaro No, dove vai? Vabbè, spero che andrà lì Un'altra strategia potrebbe essere quella delle valchirie Perché? Le valchirie tentano di prendere più di una cosa alla volta Quindi se avrete magari, che ne so Dei depositi fuori che vedete Che potrebbero farvi vincere un bel gruzzolino Beh, potrete usare le valchirie Però le valchirie, ragazzi Io vi dico che una ventina di valchirie Vi toglie un sacco di elisir nero Quindi sarebbe un attacco Cioè, sarebbe una cosa che guadagni da un lato Ma ne perdi dall'altra Perché ovviamente poi l'elisir nero serve Ed è prezioso Quindi è inutile spiegarlo Bene Ha preso il deposito fuori Abbiamo guadagnato quasi 200.000 monete E 60.000 elisir Un ottimo risultato Abbiamo guadagnato l'elisir speso per le truppe E in più abbiamo guadagnato qualche soldino in più Per portarci avanti verso la modifica dell'altro arciere Che vorremmo modificarli tutti In modo tale da maxarmeli a 9 Per poi passare alla Tregone A4 E alla Tesla A3 Tutte quante Comunque sia, come vedete È ottimo Allora, io per iniziare Vi farei vedere più o meno Come fare un Che ne so Una squadra di truppe Molto molto utile Io inizierei a usare Gli spaccamura Perché magari troviamo Che ne so Un villo dove c'è L'elisir e l'oro Nascosto dietro delle mura Possenti Allora Con gli spaccamura Ci creeremo la strada Per andare con i Goblin Ok Mettiamone tre a testa Così sono 12 E riusciremo a usarli Poi Volete che i Goblin Siano In seconda attenzione Quindi non Volete che siano attaccati Fatevi Che ne so Una decina di giganti Io ne faccio 8 Perché Qua no Ecco Perché Mi sembra inutile Farne più di 8 Ne metti una A spazio E via Poi ovviamente C'è sempre l'opzione Delle truppe del clan Mettete che vi escono Le truppe del clan O che avete il municipio Avete il municipio Fuori dal villaggio Quindi volete farlo Distruggere Però Con i Goblin Non riuscirete Quindi Facciamo 5 A caserma E 5 5 di Barbare E 5 di Arcieri A caserma In modo tale Da avere Una ventina di Barbare E una ventina di Arcieri Poi anche Se avete il Re Barbaro Tutte queste cose Che potrebbero aiutarvi I Barbari E Arcieri Potrebbero Potrebbero servirvi Bene Ora mettiamo Tutti Goblin In ciascuna Caserma Io li metto tutti In modo tale Che dopo Possono partire Mentre sono in guerra Ne fa un'altra ventina Ora Vediamo un po' Ok Proviamo a contarli Io ne metto Più o meno Un po' A testa In ciascuna caserma E vediamo Quanti Goblin Siamo riusciti A prendere Da questa Perché poi Se voi avete Più di 50 Goblin Nel vostro accampamento C'è più probabilità Che trovate Un villaggio inattivo Lo trovate anche Senza neanche Un Goblin Però sarebbe Una cosa difficile Perché poi Goblin Cercano Villaggi Da Da prendere Più risorse possibili Quindi attirerete L'attacco Vi sarà più Più utile Allora Sono 96 Goblin Quindi Quasi 100 Goblin Ci può anche stare bene Ora ragazzi Avete visto Come funziona Io adesso Vedrò Come fare altri Attacchi Nel prossimo Attacco Vi farò vedere Un'altra strategia Magari E vedremo Un po' Come fare Adesso sto facendo I draghi al 3 Quindi Non posso permettermi Di fare strategie Spettacolari Da Pecca Draghi Pozioni Mica pozioni Perché ovviamente Non riuscirei A Non riuscirei Non ho Non ho budget Almeno mi serviva Mi serviva Un 500.000 Che almeno Un 200.000 Dopo Mi Mi riusciva A tenere da parte Cioè Riuscivo a tenerlo da parte Così Arriverei a 0 Comunque ragazzi Spero vi sia piaciuto il video Se volete Andate a vedere Magari le scorse puntate Di Clash of Clans La prima e la seconda Come avete notato Abbiamo una nuova risoluzione Ebbene Abbiamo trovato il modo Di fare video In una qualità migliore Bene ragazzi Per oggi è tutto Spero vi sia piaciuto il video Mettete mi piace Iscrivete se avete da dire qualcosa E ciao Per oggi è stato il video Per oggi è stato il video Per oggi è stato il video Grazie a tutti